4 a 4 contro con il Real Orange questo 4 a 4 parliamone si può dire che si lo so ma non posso far calare il sol silenzio stampa Giuliani però Canzoneri secondo me dovrebbe dire la sua Canzoneri oggi ha fatto gol ha fatto 3 gol 3 gol 4 gol 4 gol perché c'è Enrico più uno si può dire un campionato vi hanno fermato il Real Orange hanno fermato dove sta andando? e quello passa mentre i Firefighters hanno vinto quindi si può dire campionato riaperto ma sai quanto stiamo in classifica? stiamo a 10.6 siamo primi a 10.5 però tutti là siete e il Real Orange tutti là siamo e il Real Orange sono a 8 e 7 ai Firefighters oggi hanno vinto facendo 3 punti ci eravamo passati no 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 eravamo prima vabbè ancora è aperto ancora comunque ancora tutto siamo solamente alla quarta giornata sicuramente poker di Canzoneri allora poker di Canzoneri oggi ci mancava Garuso purtroppo è andato il commentatore mi ha detto il commentatore ah vero oggi perché non c'era oggi è partita quindi ho fatto una punta aggiunta punta aggiunta è solo di Lagrast Lagrast si rivede Lagrast si rivede la mente fuori di Trapani si rivede è pubblico è pubblico ancora già fa mancare comunque c'è da sottolineare una partita no di Giuliani io no no tutto l'opposto di Canzoneri tutto no non è che gli hai rubato la scena no no proprio io non c'era oggi partita è no di Giuliani partita è no di Callara partita è no di Lomeo il grande Lomeo due giocatori Lomeo partitone oggi no non glielo dire è penna è penna penna è penna ha scritto bene ringraziamo Davide i suoi passeggi a metà campo che sono un cioccolatino per gli avversari appena vedo il video ti distruggi hanno giocato a penna pure l'ora all'inizio Davide ti voglio bene dicevo questo il commentatore si è paragonato a Battistura chi è questo? mamma mia quello che riprendeva chi è Battistuta? chi è questo passo? chi è quello che riprendeva? a Camus? commentatore a Camus? chi è Battistuta? come chi è Battistuta? chi è Battistuta? no Battistuta ha fatto la storia della Fiorentina non te la vorrei dire è la Roma è la Roma a mi inquadrare ha giocato nella Fiorentina a Roma, Inter ma sai chi è Battistuta? per farti capire è intenditore di calcio beh però Battistuta guarda che si era piante anche se parli piante perchè hanno paragonato a Battistuta? stesso fisico stesso anche modi di giocare perchè lui non sappia chi è Battistuta appunto ha saputo più cerca su youtube Battistuta e vedrai tu ti ricordi Battistuta? si il mio cugino Gabriele Omar battistuta certo Roma il re leone il re leone si al real esatto va bene va bene pensiamo di fare bene alla prossima che con i presi a bene i presi a bene i presi a bene i presi a bene e feci sono un simpaticone che? i ben presi avevamo pareggiato con i real si ma stanno prendendo le niente dai 4 a 4 punti però con loro con le grandi vedi che si esaltano non si esaltano tranquilli io li faccio vedere ci prendevo 5 a 0 appunto con la grande si esaltano 5 a 0 i Huricans hanno vinto 5 a 0 che porta l'Egre ma no non vince ma finalmente hanno vinto mi fa piacere ragazzi vi saluto il big question alla prossima ciao ciao pareggio dei real orange oggi pareggio diciamo che non vi piace il grande ritorno di rufola in campo quindi il caso si è risolto possiamo dire e ci sono anche un buon fantasma di questo e allora capitano Tarantino ecco questo pareggio diciamo è a frutto del pareggio abbiamo una pareggita mettiamoci pure la vittoria dei Firefighters diciamo un campionato completamente riaperto certo ma perché l'hai chiuso? potevamo allungare oggi potevamo vincerla però comunque gli avversari correvano erano bravi erano avanti di 3 a 0 erano avanti di 3 a 0 poi abbiamo subito un gol erano le scarpe non ho capito ma dice che quelli di Serie A non possono giocare c'era Cavani c'era Cavani? si ha fatto 4-1 eh vabbè 4-1 voi comunque avete già Lombardo questo capocandoniere che oggi ha fatto 2 golle in Coppa ne ha fatte addirittura 5 vabbè vabbè più di te così ma poi elogiare lui si adagia su... allora come mi devo comportare Edoardo? si ora manco la prossima partita tra l'altro bello il suo secondo gol il bello il suo secondo gol è che ha fatto proprio un gol alla Balotelli più esultanza alla Balotelli e mi voleva annullare pure qua e il suo è gol ma io qui lo dico la punizione era tanto vabbè al di là di tutto al di là delle polemiche potremmo giustarla meglio su 3 a 0 Fizzuto ci fa la moviola vabbè dicevamo Claudio? potevamo giustarla meglio sul 3 a 0 sul 3 a 0 sul 3 a 0 ci difendevamo guarda avevamo prenderlo manco seriamente in termini no sono stati bene bene ora c'è il responso vabbè presto sapremo se la palla è entrata o non è entrata ecco hai visto ecco bravo quindi è diventata almeno... Ricky tu cosa ci volevi dire? allora intanto quasi tutti inutili ridono quando dicono le cose sono stati davvero bravi loro e negati noi no no ma è vero era vero che poi magari penso che li prendiamo in giro e non è vero e che sono stati davvero bravi comunque io volevo ringraziare il pubblico che oggi non è venuto e ci può stare tutti tutto il pubblico e dico tutto veramente grazie col cuore per non essere venuti non ce n'era una e non abbiamo perso anche senza di voi infatti noi siamo comunque come la Juve come la Juve dai due pareggi due vittorie due pareggi e comunque loro erano i primi anche senza pubblico vinciamo e pareggiamo ve la potete stare tutti a corso perchè oggi il pubblico è mancato? mi manca ci sono una potessa siccome sapevano che il runfala non c'era no no non parla testa del tipo eh infatti e la vogliono cambiare il filo vogliono cambiare il filo di Riccardo questa cosa non lo so ci sta non è per la testa è giusto che ve l'ho detto il Gallo sapevo che non c'erano io non era per la testa non ha la testa comunque l'unico l'unico rammarico è di essere sopra da zero e averla pareggiata solo questo e che poi loro hanno giocato secondo me nel secondo tempo la colpa della difesa o tutta la squadra? tutta la squadra non è mai la colpa del filo il piano tecnico tattico poi c'è chi fa gli errori c'è chi ne fa di meno ma tutta la squadra comunque è il primo rigore contro che ho avuto eh tra l'altro pure il rigore sono stati sfortunati sono stati sfortunati sono stati sfortunati pure sul rigore si devo dire padre poi la mia schiena padre la mia schiena tanto già mi ero girato per prenderla però al canzonieri andava bene poi il runfo doveva venire a zittire dopo la punizione invece purtroppo insomma il canzonieri ve l'ha cantato oh dio questa è una battuta un po' la puoi tagliare vabbè vabbè ragazzi aspetti altri 5 minuti andai bene te la fai ma stanno aspettando i super santo ma il prossimo si gioca tutti a pasqua ma il prossimo si gioca ah quindi si gioca e siamo contro manu siamo contro dimmi tutto chi siamo siamo contro me l'avevano detto e ti mangio no siamo contro i weekend ma la posizione si sa più o meno in live penso secondi o terzi non lo so eramo secondi no no perchè i firefighter si superano ma i super santo si sono davanti forse le scuole anche come erano messo no no ma quanto è finito o terzi o qualsi vabbè sei punti hanno vinto però devo dirti la verità no che sera per chiudere comunque questa acqua non mi convince questa acqua mi sa molto di coca si devo dire la verità amico la forti vuoi aggiungere qualcosa? senso stato ma domenica c'è il ruistuta quindi qui a casa a fare il ruistuto ciao ragazzi alla prossima fabbro ci va a fare il ruistuto qua diventiamo tutto il video vediamo vediamo no perchè vediamo ci sei o no? vediamo ci sei o no? guarda non lo fai emozionare guarda un quadro bene primo piano per favore primo piano hai avuto il cappuccio fatti vedere bene ci sei? ci sei? vediamo tu ci sei? tu ci sei? io farò un cefalu carini in un'ora nuovo record lo dichiaro tu ci sei? ci so ci so hai detto che c'è tutto su video comunque è violenza questa è violento e in campo è peggio mi piace buttarlo fuori vabbè ragazzi allora poi lo stiamo dicendo che sulle... ciao ragazzi ciao